Tra l'altro da qui potete vedere che anche sulle banchine della piattaforma logistica c'è il traghetto e si sta lavorando. Se il nostro Franco Torricella si sposta di un paio di metri a destra vede che stanno scaricando i semi rimorchi in piattaforma logistica il traghetto turco. Lo vedi Ferdinando? Non so se riuscite a vedere. Sì sì era proprio per farvi vedere che il porto funziona perché se vedete da questa inquadratura il nostro Franco Torricella in direzione di piattaforma logistica ovvero la parte nuova del porto di Trieste. Il traghetto sta regolarmente lavorando. Questi qua dicono che il porto sta lavorando ma insomma insomma questa è l'informazione questi dicono che il porto sta lavorando vediamo infatti che c'è tantissima gente che sta lavorando sul porto non ne vediamo niente qua dicono che si lavora il porto questi dì non ne vediamo niente qua comunque questo l'informazione proprio possiamo cerchare Grazie a tutti.